Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale e in questo nuovo video. Io sono Luca di LM Fine Art e oggi vi andrò a guidare nello sviluppo all'interno di Lightroom di questa fotografia. Questa foto l'ho realizzata a Forte dei Marmi e come potete vedere è una lunga esposizione che ho potuto scattare andando ad utilizzare un filtro ND64 e poi un GND Medium. Il GND mi è servito per andare a bilanciare il primo piano e il cielo e quindi avere tutta quanta la gamma dinamica disponibile in un unico scatto senza dover ricorrere a delle multi esposizioni. Quindi siamo pronti per procedere con lo sviluppo di questa immagine. Vi ripeto è una lunga esposizione che ho realizzato a Forte dei Marmi, brevemente i dati di scatto ISO 100 per non avere rumore, 16 mm, F16 per allungare un pochino i tempi a 30 secondi e appunto poi 30 secondi di tempo di scatto che era il limite in quel momento per non andare a bruciare le luci che sono proprio al limite come potete vedere. Dunque intanto giusto per cominciare andiamo e cominciamo a lavorare subito con il bilanciamento del bianco. Proviamo con nuvoloso, direi che va abbastanza bene però lo trovo leggermente troppo caldo quindi vado a riportare la temperatura a 6200 circa mentre invece vado a portare la tinta a un più 15. E in questo modo quindi abbiamo bilanciato sia i blu e i gialli che i verdi e i magenta. A questo punto andiamo molto brevemente a abbassare leggermente le luci per recuperare i dettagli in particolar modo nel cielo. Alziamo leggermente le ombre e i neri ma non ce n'è molto bisogno perché come vedete sono ben leggibili e andiamo a abbassare leggermente i bianchi in questo modo. Dopodiché lasciamo stare la chiarezza e andiamo a dare giusto un più 10 circa alla vividezza per tirar fuori bene i colori. Poi prima di procedere con le altre regolazioni sul contrasto eccetera andiamo un attimo in correzione obiettivo andiamo a rimuovere l'aberrazione cromatica e attivare la correzione del profilo della lente per togliere la classica distorsione a barilotto dell'obiettivo e andiamo a dare un po' di nitidezza. Io di standard uso circa fattore al 60 i dettagli più o meno li porto sotto al fattore raggio intorno a 1.09 e poi mascheratura sempre a 25. Perfetto. Quindi diciamo che per quanto riguarda le regolazioni generiche siamo a posto. Dunque adesso passiamo invece con l'andare a bilanciare innanzitutto l'esposizione della foto perché come vedete qui le luci sono ancora un pochino troppo bruciate ci sono ma sono troppo luminose al mio gusto quindi vado a prendere un filtro graduato con un'esposizione negativa la abbasso un pochino in questo modo e poi vado appunto a creare un filtro graduato in questo senso però lo metto in obliquo perché almeno non vado a scurire troppo le nuvole in questa posizione che invece rimangono un pochino più luminose però allo stesso tempo vado anche a recuperare i dettagli e le informazioni in questa zona un po' più luminosa. Altra cosa invece molto interessante adesso vi faccio vedere come andare a creare una foto un pochino più tridimensionale da un punto di vista della luce quindi in sostanza andiamo a prendere un filtro radiale con un'esposizione leggermente negativa che poi comunque potremo andare a riaggiustare eventualmente e poi andiamo a localizzare la fonte di luce in questo caso io la fonte di luce ce l'ho in questa posizione qui ci clicco sopra e poi vado a trascinare un'ellisse e quindi in questo modo in pratica posso andare a creare una vignettatura in sostanza personalizzabile che posso andare ad adattare al meglio alla fonte di luce e alla sua posizione perché invece la vignettatura normale va a lavorare solo sul centro della foto in questo modo invece quindi posso andare a enfatizzare molto meglio la direzione della luce e quindi guardate molto semplicemente con questi pochi ritocchi cosa abbiamo fatto sulla nostra immagine dunque questa era la nostra foto iniziale questa invece è già la foto con questi semplicissimi aggiustamenti diciamo quindi continuiamo e procediamo con lo sviluppo possiamo andare nella curva di viraggio e possiamo andare a lavorare con i punti quindi alziamo leggermente il punto del nero in questo modo ok e andiamo a fare una pancia leggermente verso il basso in questa posizione e andiamo invece a fare una leggerissima curva S qui per dare più potenza in sostanza alle luci e ai colori più brillanti dopodiché spostiamoci invece negli slider e andiamo a controllare sempre che ci sia un bel contrasto voglio che sia ancora un po' più forte quindi controllo che i colori chiari abbiano una buona potenza e che però allo stesso tempo nulla si vada a bruciare né nelle ombre né nelle luci quindi comunque sia vedete che qua nel mio istogramma non ho nessun avviso acceso proviamo anche a scurire leggermente i colori scuri in questo modo perfetto e alziamo leggermente le ombre per far sì che questi dettagli non risultino troppo scuri e troppo pesanti quindi siamo pronti per procedere e andare invece a lavorare nel pannello HSL una cosa che non mi piace particolarmente è la differenza di toni nei blu della foto quindi in questo caso vado nella luminanza e vado a alzare leggermente la luminanza del blu in questo modo e anche quella dell'acqua marina quindi vedete che posso andare a controllare la loro luminosità però se vado a portarlo verso sinistra li vado a scurire in molti blu invece in realtà li vorrei un pochino meno pesanti e meno presenti nella foto quindi alzo leggermente la loro luminanza e poi vado nella saturazione e li desaturo anche leggermente proprio perché non voglio che siano troppo pesanti e troppo importanti nella mia immagine un discorso simile lo facciamo anche con i gialli e gli arancioni quindi vado a alzare leggermente la luminanza dei gialli per dare un po' più di potenza alle zone qua nella spiaggia e alzo anche leggermente gli arancioni perfetto quindi guardate il prima e il dopo aver utilizzato anche il pannello HSL infine se poi lo ritenete necessario potete andare anche a intervenire sulla tonalità dei singoli colori in questo caso io voglio far slittare leggermente i gialli verso l'arancione quindi prendo i gialli e li porto di qualche punto proprio poco poco verso l'arancione e i verdi lo stesso verso il giallo di circa un meno 11 in modo da avere dei colori che si amalgamano più facilmente per quanto riguarda invece gli acqua marina li porto leggermente verso il blu mentre invece i blu li porto leggermente verso l'acqua marina in questo caso e quindi diciamo che in questo modo riesco ad avere dei colori leggermente più vicini meno distanti e che poi nella foto finale risultano molto più appaganti da vedere per poi concludere andiamo a fare un altro filtro graduato con le luci quindi andiamo a recuperare un pochino di dettagli in questa zona quindi clicco e trascino leggermente verso il basso così vado a regolare finché non ottengo il risultato che mi piace di più e direi che quindi in sostanza abbiamo concluso anche con le regolazioni sul contrasto quindi rivediamo un pochino il prima e il dopo quindi qua sulla sinistra vedete la foto iniziale qua invece potete vedere chiaramente la foto quasi terminata quindi adesso non mi resta che andare a fare un'ultima cosa ovvero rimuovere tutti quanti i pallini di sporco presenti nella mia foto e andare anche a ripulire un pochino la spiaggia qui nel primo piano per farlo però andrò a lavorare in photoshop perché è molto più semplice è molto più veloce di lightroom e inoltre ha anche più strumenti adatti proprio per andare a ripulire la foto quindi ora non vi farò vedere tutto nel dettaglio perché ci vorrà un pochino però vi farò vedere tutto quanto velocizzato e poi ci rivedremo alla fine con le ultime considerazioni e poi ci rivedremo alla fine con le ultime e dunque ecco fatto che ho concluso con la foto sono andato a rimuovere tutti quanti gli elementi di disturbo che mi davano fastidio dalla battigia ho rimosso quel bruttissimo flare alato sulla sinistra anche quel piccolo flare presente sull'acqua tutti quanti gli spot di sporco e poi sono andato anche a enfatizzare un pochino di più le nuvole e il loro movimento con un banalissimo filtro sfocatura effetto movimento con 100 come fattore poi angolo 0 perché comunque le nuvole si muovono in orizzontale e dunque questo è il risultato finale della foto che ho realizzato e dunque siamo arrivati alla fine anche di questo sviluppo all'interno di lightroom sul canale spero tanto che vi possa essere servito che vi possa essere piaciuto e che vi possa permettere anche in futuro di andare a editare meglio le vostre immagini per creare foto ancora più di impatto da un punto di vista dell'editing se avete dei dubbi delle domande delle richieste o qualsiasi cosa fatemelo sapere qui sotto nei commenti o se no scrivetemi anche in privato sulla mia pagina di facebook mi raccomando seguitemi sulla pagina su instagram e anche su vero che è una nuova piattaforma su cui vado a pubblicare quasi quotidianamente perché è una qualità veramente eccelsa e mi raccomando se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per non perdere tutti quanti i video che usciranno in futuro noi ci vediamo come sempre ogni martedì alle 9 proprio qui su LM Fine Art ciao